Per le tasse da restituire sarà necessaria una proroga ulteriore nel mille proroghe, vista la mancanza approvazione dei nostri emendamenti che chiedevano di inserire immediatamente, già nel testo del Governo, la soluzione del problema. C'è sicuramente bisogno di un'ulteriore proroga adeguata, visto il mantenimento di soli 60 giorni, entro i quali, peraltro, c'è agosto. Commenta così l'onorevole Stefania Pezzopane, deputata dell'ufficio di presidenza del gruppo del Partito Democratico. L'ok è alla Camera, al DL terremoto, divenuto legge, ma senza l'approvazione degli emendamenti presentati. Meglio sarebbe stato approvare l'emendamento sul de minimis e sull'interpretazione della norma italiana per l'applicazione di temporali framework e franchigia. Stupisce, sottolinea la deputata Dem, che i sovranisti Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che su questa vicenda avevano addirittura annunciato che sarebbero usciti dall'Europa, ora dall'Europa dipendono, anche per una norma italianissima. Noi continueremo a batterci, fino a salvare tutte le imprese coinvolte da questo provvedimento, causato dalla mancata notifica avvenuta tra il 2009 e il 2011, continua Stefania Pezzopane. Manteniamo ferme le decisioni assunte dal tavolo regionale e a quanto convenuto con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giorgetti. Ma, conclude Stefania Pezzopane, vogliamo concretezza. A tal proposito interviene anche Luigi Deramo. Con la definitiva approvazione del cosiddetto decreto legge terremoto, la Lega e il Governo mantengono gli impegni presi. Ora si dovrà continuare a lavorare a testa bassa, senza sosta, rimboccandosi le maniche, affinché si giunga alla definitiva soluzione del problema. Nonostante qualche ostruzionismo evitabile dell'opposizione, ha aggiunto Deramo, che ha rischiato di far slittare l'approvazione dell'atto, con pesanti conseguenze, si è raggiunto un primo importante risultato, che dovrà fare da preludio a quello vero e proprio, a cui la Lega, di concreto con gli altri soggetti che compongono il tavolo tecnico istituzionale e soprattutto a braccetto con il Governo, lavorerà fin da subito. Questi ulteriori 60 giorni consentono alle imprese aquilane di tirare un sospiro di sollievo e ci danno un'ulteriore finestra temporale per avviare l'interlocuzione con l'Europa, conclude Luigi Deramo.